Radio Bruno Ciao a tutti, sono Francesco Messori, capitano e fondatore della Nazionale Italiana di Belgio Amputati ed io il vicecapitano Evaluero Padoano Siamo a Vicenza per prepararci ai mondiali in Messico e per finanziarci abbiamo organizzato insieme al gruppo Si Corre Si Cammina a Correggio il 29 aprile una camminata per sostenere il nostro percorso verso i mondiali ad ottobre in Messico terremo alto l'onore dell'Italia e quindi fate il tipo per noi Grazie a tutti Grazie a tutti